Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video report del WCS di Sydney e come possiamo vedere c'è tra i tanti Fire King e Snake Guy un minimo di varietà, più o meno, insomma se non si considera dalla top 8 in poi, fondamentalmente, però di mazzi ce ne sono stati e prima di iniziare, come sempre ragazzi, mi invito a scrivere, non sono le primarie sempre aggiornate ricordate l'iscrizione ci aiuto tantissimo, io vi ringrazio di questo, grazie mille, detto ciò partiamo, partiamo e ogni tanto, ultimamente, sono ultra rincoglionito, quindi delle volte dico cose che magari non hanno un nesso logico quindi se succede, sorvolate, sorvolate perché allora top 32 9 Snake Guy, 10 Fire King, 3 Cash Tira, 3 Voiceless Voice e 1 Perdi, Florandris, Purely, Phantom Night, Shark si, devo dire despiamo anche solo il Salaman Gate top 16 4 Snake Guy, 7 Fire King, 2 Cash Tira, 1 Perdi, Voiceless, Florandris e Purely top 8 4 Snake Guy, 4 Fire King, perfettamente bilanciato come tutto dovrebbe essere e poi 3 Fire King 3 Snake Guy, scusate, 1 Fire King e poi solo Snake Guy quindi andiamo a vedere io vorrei partire da Salaman Gate e poi dallo Shark da 190 dollari pure lì Cash Tira, Florandris che fondamentalmente sono i deck che ehm quelli diversi il Phantom Nights era mischiato con Horus e Brave Tog che non può comunque, lo conosciamo, lo conosciamo nella lista quindi ehm diciamo con il Sales Voice abbiamo il Fire King è un mazzo super mille dollari strano di solito soprattutto per Snake Guy Salaman Gate Salaman Gate Salaman Gate allora, tripla casella tripla Spinny un Weasel un Weasel una Foxy un Jaguar un Tiger tripla le D-The Bug poi le Exit ehm l'Amp che in realtà potrebbe essere anche interessante perché comunque può anche rimbal... beh si evoca facilmente quindi molto 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 buono poi c'è un Link 2 controlliamo ci vedrà pure Bandito quindi magari anche con Little Knight eccesso tanto il Damage possiamo bandire questa carta dal cimitero se c'era lì quando il mostro è stato bandito dalla mano anche se non c'era tra la carta del Loppo e la rimbalzi quindi potrebbe essere una cosa interessante e poi tante HT come Flow eh se Flow Salaman Gate ci insegna mamma so proprio a pezzi stupido come Salaman Gate ci insegna non arriva a livelli di Tempai e Tempai l'ha doppiato però vabbè insomma Triple Ash Triple Vene Triple Troll Triple Nibiru Triple Impermanence Silent Mining Circle e ok tutto il resto poi vediamo un Exelec con la tripla Raging Phoenix triplo se do triplo diciamo Bunelinks Sunlight Wolf 2x5 poi la Cyber Duster, Salmon Get Rage che è molto buona e Summon Limit abbiamo 1 per del Salmon Get Charge tracchettiamo 3 mostri fuoco sulla bandina del cimitero ne mischiamo 2 di 3 nel deck se lo facciamo vediamo specialmente i mostri il resto dei mostri se controlliamo un fuoco ridurre la fusione X-Eason Link ok vabbè no può essere interessante può essere interessante anche per fare le vocazioni molto molto buono dai un Salmon Get che comunque ha detto la sua ma più che altro Armored Shark andiamo a vedere l'Armored Shark cioè già il fatto che sia Shark è da da applausi il fatto che sia Armored Shark vuol dire che è ancora più tra l'altro poi con i Kraken che rendono tutti acqua potrebbero essere molto rognosi da togliere anche perché ti vai a bloccare tot effetti dell'oppo quindi può essere molto interessante prendi 300 per ogni materiale una volta che ti ha mostrato il cimitero aggiungi la mano una carta X-Ease dal cimitero aggiungi la mano un'altra per turno se una carta equipaggiamento viene equipaggiata un mostro che controlliamo attacchiamo un mostro dell'avversario acquistata come materiale ok bene a zero ok non sono espertissimo del full armor però quanto pare sembra aver avuto molta ragione a parte perché comunque Shark di per sé è un mazzo che comunque non è per niente male quindi abbiamo il 3x dell'avis che ci consente di utilizzarlo come più livelli tra virgolette quindi non è male poi anche è anche un extender quindi veramente molto buono ci permette di aggiungere anche carte è veramente un mostro molto forte e fa anche dando raddoppiato effettivamente l'avis shark è molto molto buono sono tutti i mostri che comunque riescono a fare diversi extender e adattarsi comunque agli X-Ease che hanno poi anche un kaiju che non ci sta male è questo Evo che è addi molto forte molto molto forte e le carte armored ti devo dire può essere una soluzione interessante anche perché comunque il costo non è così elevatissimo se poi ci togli il 2x di lei che sono comunque 80 euro il mazzo viene a costare un centinaio può essere una soluzione interessante è uno shark molto buono che ha anche dei negate importanti quindi ha modo di giocarsela ha modo di giocarsela non ha neanche così tante ht vedete cioè alla fine c'ha 3 ash e 3 nibiru con qualcosina ovviamente di extra di side però insomma ti devo dire è un mazzo molto interessante pure lì pure lì che intanto dopo la rarity sarà molto più fattibile questo quanto è sceso non sa madonna è crollato è crollato tantissimo allora vediamo pure lì con la carta agent prendi il santuario del cielo e la carta lo menziono al deck oppure se il santuario è il cielo è sul terreno del cimiter possiamo giungere un agente possiamo tributare il mostro fata ok vuole due mostri fata vuole due mostri fata che è facilmente attuabile con i pureli poi abbiamo l'irilusk ok va bene una capasticciona è ok ti devo dire possiamo tributare un mostro fata e spaccare una carta può essere una roba interessante il santuario non c'ha niente quindi non è che può sfruttare l'effetto di aggiungere però può sfruttare l'effetto di tributare e spaccare che potrebbe essere una roba abbastanza interessante poi triplo pureli triplo pureli tutte ht doppia prosperity colled e ok poi il restante tutte carte d'archetipo e ok pureli e plump doppio beauty doppio happiness mono noir doppio expureli noir poi lì smoga pasticciona zeus typhoon e ok no pure questo potrebbe essere un mazzo molto interessante anche così in realtà è pure abbastanza semplice quindi non male c'è un città che ancora mi sottovalo dal corvo ma corvo tanta roba poi abbiamo cash tira ma per cash tira più o meno è sempre non dico sempre sempre così però insomma di main questo qui fondamentalmente c'è sempre la cosa dell'avere lo shifter di main tranquillissimo e sfruttabilissimo quindi ok polire parto extra gigolem doppio link spider mascherina troppo link cyclone ttt and in front dimension summon limit ok uno dei motivi appunto per cui non voglio non vorrei che togliessero anche floodgate allora branded voiceless voice è interessante branded voiceless voice è interessante io non ci avevo mai pensato però fondamentalmente potresti anche utilizzarlo quindi ti devo dire che sfrutti tantissimo anche le carte di branded quando ando al cimitero quindi va benissimo ti puoi permettere dragoon molto molto semplicemente quindi già che riesci a farti uno skull guardian dragoon può essere una soluzione interessante quindi non è non è male non hai neanche la lock dell'extra deck effettivamente perché non giochi manco il reparto e il reparto dogmatica quindi non ti vale locale l'extra deck e poi effettivamente avere delle carte molto molto interessanti quindi ti devo dire non è non è per niente male non è per niente male la guai di mandi la roba cimitero aggiunge i super poli design che potrebbe essere una soluzione interessante pure lui molto buono non lo per ci sta perché fondamentalmente entra anche gratis quindi buono che devo dire branded voice bella bella pensata poi tabella star fire king eccoci qua doppio tifone ancora ancora che mi dite che tifone è una carta di merda ma c'è tifone spaziale mistico schifo ma vabbè comunque il reparto fire king è più o meno quello lì con la riduzione ovviamente anche della terreno della continua diplo ash flamberga uno due popolo streghetta ht e via discorrendo più o meno il mazzo a questo qua di bella star fire king quasi mi sembra che non sia cambiato niente quasi quasi è questo invece di di side deck gioco tutte magine 3 cosmic tifone rilascio monster borga merda snatched in one control e triple tattiche questi non giocano l'inna dell'obbedienza ok questo in controllo gioca uno e triple strike va bene e questo vediamo di bella snaghery basta gioca il reparto sincro e gioca una nina dell'obbedienza quindi tripla witch triplo ash doppio popolus doppio flamberga e monowook jet synchro tutte ht one four one ci sta triplo tattiche cross out assolutamente anche perché già di meno c'è 30 milioni di target nina nana triplo bonfire triplo wanted sinfo spoils terreno impermanence extra deck molto classico molto molto classico gioca praticamente tutto quello che si gioca qui questo magari un dark no e poi decide con l'ipsai va bene tutti i bsial possibili kurikara che è addabile tranquillamente quindi anche nullo vero va benissimo doppia nina nanda che potrebbe essere utile in più copie in determinati matchup magari doppio cosmic e doppio lightning storm questo è il mazzo che ha vinto il ycs di sydney e si effettivamente è più o meno come non dico più o meno come cioè è il mazzo che fondamentalmente vince e ci sta anche perché comunque no il mazzo è forte è difficile da contrastare molti mi magari scrivono fai 2-3 ht nel coso giusto insomma raga se fosse così facile non era non vinceva così tanto e parte poi anche con il ripartino sincro comunque diventa abbastanza fastidioso il mazzo è forte vediamo se andranno a toccare qualcosina insomma comunque detto questo ragazzi fatemi sapere cosa diventate ovviamente noi come sempre ci vediamo nel prossimo video e un saluto a tutti e Grazie.